Ora immaginiamo di essere negli spogliatori, stiamo per scendere in campo per giocarci la partita, per giocarci la finale, abbiamo Ferdinando De Giorgio, questo lo fai vedere a Micheletto, lo fai vedere a Anzani, lo fai vedere a Giannelli, questo che succede adesso se succede, lo fai vedere a Micheletto, lo fai vedere a Giannelli, questo che succede adesso se succede, non sappiamo se succede. Allora adesso, quelli alla mia destra, non vi vergognate, dicono noi, gridano noi, quelli alla mia sinistra gridano, il mio paese vi spinge così. Noi, Italia! Noi, Italia! Noi, Italia! Noi, Italia! E' riuscito! E' uscito, grazie, non farò vedere sicuramente, noi in Italia, noi in Italia, noi in Italia, è uscito, grazie, non farò vedere sicuramente.